Il mio nome è Domenico Zini, sono nato a Marmirolo di Manto il 16 luglio del 1950 e sono entrato come dipendente dell'Università di Padova, come bidello incaricato, il 14 luglio del 77. Poi sono passato assistente bibliotecario nell'85 con tutto il riordino che c'era stato delle carriere del personale tecnico e amministrativo. Sono stato assunto, diciamo come incarico a tempo determinato, al centro interdipartimentale di chimica di via Marzolo nella biblioteca centrale di chimica, allora è stato direttore il professor Peci ed è stato direttore per circa 10 anni. Era una bellissima biblioteca ed era partita nuova anche quella, quindi è stata un'esperienza diciamo quasi pionieristica vedere partire una biblioteca e metterla in piedi insomma. Sono stato a chimica circa 19 anni, fino al primo marzo del 1996, quando su mia domanda sono stato trasferito alla biblioteca centrale di Agripolis Pietro Arduino. Ho fatto diciamo questa domanda perché forte dell'esperienza della biblioteca di chimica, con una biblioteca nuova che parte, questo spirito pionieristico si sarebbe diciamo ritrovato dopo 19 anni di lavoro nello stesso posto, pensavo fosse interessante cambiare. La biblioteca centrale di Agripolis nasce dal trasferimento nell'area di Agripolis della biblioteca centrale di via Gradenigo e di tutte le biblioteche dei quattro dipartimenti che erano in via Gradenigo. È stato fatto un progetto dal sistema bibliotecario dell'Ateneo di recupero di tutto il materiale che era presente nella biblioteca centrale di Agraria e di tutto il materiale che era presente nelle singole biblioteche dei dipartimenti che non era stato catalogato nella base dei dati di Ateneo e nell'Indice Nazionale. Di questo progetto, a firma CAB, era stato dato in carico al professor Giovanni Capodaglio e diciamo che quella che era la responsabile tecnica era stata la dottoressa Tiziana Nordio. Io sono stato contattato dal direttore incaricato del trasferimento del professor Angelo Ramina che aveva visto la mia domanda per coadiuvare al recupero di questi fondi presenti ad Agraria. Quindi ho cominciato a lavorare che era nell'estate del 1995 fino al dicembre del 95 quando tutto il materiale è stato trasferito nell'area di Agripolis. Diciamo che in questo periodo sono stati recuperati in base d'Ateneo e in Indice Nazionale circa 7500 monografie. La stima generale era che nell'area di Agraria fossero presenti circa 17 mila monografie e in abbonamento circa 250 periodici. In realtà il conto è stato fatto molto per difetto, diciamo, perché una volta che ci siamo trasferiti nell'area di Agripolis è continuato questo tutto lavoro di recupero e arrivati a 40 mila volumi diciamo recuperati in banca dati, ancora non se ne vedeva la fine. Le riviste poi si sono rivelate quello che sono un patrimonio incredibile. Faccia conto che ad Agripolis ci saranno circa 700 periodici, c'erano circa 700 periodici attivi tra abbonamenti e rivisti in scambio. Quello che è stato il sogno di dire vado ad Agripolis e faccio un buon lavoro ma con una certa tranquillità si è in realtà rivelato un lavoro molto impegnativo anche perché c'era tutto da costruire una squadra di bibliotecari che erano nei singoli dipartimenti e personale nuovo che era entrato per lo più personale tecnico amministrativo di categoria dei servizi che era stato ne assunto. Diciamo che poi c'è stata un'altra cosa che differenziava Agripolis da Chimica. A Chimica un direttore durava quando era poco 5-6 anni, il professor Pecile 11 anni. Ad Agripolis invece la direzione della biblioteca durava anche qualche mese e al massimo un anno. E questo era già una grossa differenza perché personalmente e anche i miei colleghi, devo metterli con me perché eravamo tutti alla pari, almeno all'inizio prima che ci fosse una riorganizzazione, diciamo, gerarchica all'interno delle biblioteche voluta dal CAB insomma, tutte le biblioteche sono state obbligate ad adeguarsi. C'è stata da ricreare una squadra e una mentalità da biblioteca centrale perché quello che era incredibile ad Agraria la biblioteca centrale era una cosa di poco conto rispetto alle biblioteche dei dipartimenti perché la biblioteca centrale di Agraria conteneva dei libri per lo più per la didattica, mentre le biblioteche dei singoli dipartimenti erano d'alta specializzazione e dirò nel particolare. Quelle che erano le due, tre biblioteche presenti nel Tesaf avevano una loro caratteristica, c'era il settore dell'estimo economia che era una grossa biblioteca, parliamo di solo quella 20 mila volumi ma farla stretta, più altro, più riviste erano. C'era il settore di sistemazione idraulico forestali che era una grossa biblioteca e lo è tuttora. C'era il settore di ecologia e poi c'era il settore di scienze forestali. Allora, incaricati della cura di queste già quattro biblioteche, c'erano due bibliotecari che venivano a part time a lavorare nella biblioteca centrale e in gran parte lavoravano anche per il loro dipartimento d'origine. Ad agronomia c'era un bibliotecario e l'agronomia comprendeva arbore, agronomia, eccetera, e lì anche un grosso fondo diciamo di monografie e di riviste. In più aveva all'interno dell'agronomia il settore di entomologia. Entomologia, nell'ambito del patrimonio dell'agronomia, è l'ex istituto quello che ha il patrimonio di monografie e di riviste più completo. Tutta l'entomologia classica è presente in questo ex istituto, è ricchissima di volumi, monografie e di riviste. Diciamo, è proprio completo. Lì era stata proprio fatta una scelta di non centralizzazione nella biblioteca per non smembrare, diciamo, questo patrimonio così ben costruito. A differenza di altre biblioteche tipo Firenze che avevano fatto una centralizzazione e poi si era perso tutto. Faccio un inciso. Quando si è catalogato tutte le monografie di Agripolis era stata fatta una scelta di sistema di classificazione dicimale di UI. È l'unico esperimento che c'è nell'ambito dell'Università di Pala. Naturalmente questa è una difficoltà nella difficoltà, riuscire a sistematizzare tutto il patrimonio nelle varie classi di UI. Però il risultato finale è eccellente, diciamo, ottimo. Se dovessi fare un'altra scelta la farei comunque, anche se la fatica è maggiore. Per cui tutti i libri venivano risistemati secondo questa classificazione, codificati con codice barre, catalogati in indice nazionale e quindi messi a disposizione del pubblico. Con questo lavoro sono emersi alcune eccellenze di quello che è il patrimonio Agripolis. L'ho già accennato prima, estimo economia sicuramente. Teniamo presente che prima della creazione della Facoltà di Economia gli economisti dell'Università di Pala erano gli agrari. Ma cito alcune persone, Osvaldo Passarini-Glazel, Carlo Vanzetti e il professore Ottone Ferro, poi non voglio far torto a nessuno, però mi pare tanti altri, il professore Agostini. E quindi questo patrimonio si vedeva. C'erano, per esempio, sia Osvaldo Passarini-Glazel che Ottone Ferro, che Agostini secondo me erano anche dei bibliofili. Tutte pubblicazioni di economia, eccetera, di politica agraria, ci sono tutte, oltre quelle pubblicate da loro. Entomologia ho già accennato. Se uno vuole trovare qualcosa in entomologia, trova tutto in entomologia, insomma. Scienze forestali, altrettanto, sistemazioni idrauliche forestali, quindi c'erano vari professori, insomma. Ecologia, ecologia, il settore di Lucio Susmel che era anche quello ben rappresentato e anche, oserei dire, completo, quando ancora in Italia di ecologia non si parlava. Insomma, ecco. L'altro settore, diciamo, tolta l'eccezione dell'entomologia all'interno di agronomia, era un po' più disastrato, era agronomia. Cioè, questo patrimonio risentiva un po' dall'ansia di trasferimento, quindi non avevano curato gli ultimi anni e il rinnovo del patrimonio, soprattutto anche per uso didattico. Mi resta di parlare, credo, del Dipartimento di Biotecnologie. Il Dipartimento di Biotecnologie era un altro dipartimento molto ben organizzato e molto dotato di libri e di riviste. e dico i settori, per esempio, analisi degli alimenti, chimica degli alimenti, da una parte, microbiologia e viticultura. Anche questi vari settori all'interno del Dipartimento di Biotecnologie erano tutti ben dotati e di riviste e di monografie. Quindi, quando si dice alimenti, la moda degli alimenti è venuta ben dopo di quando, ancora con l'Istituto di Chimica Agraria, si faceva analisi degli alimenti nell'Università di Paola e a che livello, insomma. Il settore viticultura era molto rappresentato e anche quello di chimica e microbiologia della terra. Questo patrimonio, soprattutto viticultura, si è ulteriormente completato con il corso di laurea in viticultura e enologia di Conegliano, che è stato attivato in quegli anni lì. E' stato fatto un accordo tramite l'Università, ma all'inizio era un po' una solidarietà da trovarsi tutti insieme, una cosa che deve partire bene e funzionare bene. Comunque, là c'è un patrimonio che è per lo più storico al Cerletti di Conegliano. Abbiamo fatto un accordo, abbiamo cominciato a catalogare nella base dati di Ateneo anche tutto quel patrimonio, tramite il professor Boato e la professoressa Talandini, responsabile del CAB, è stata trasferita dalla nostra collega che era bibliotecaria e che era sposata con Eliano, alla Biblioteca di Cerletti e ha fatto un lavoro eccezionale. Diciamo che questo è grossomodo la partenza. Manca per la partenza quello che è il settore di veterinaria. Veterinaria aveva all'inizio pochi libri per la didattica e nel trasferimento di Agripolis, tutte le biblioteche, tutti i vari dipartimenti avevano avuto dei fondi per per lo meno rimpolpare quello che era il patrimonio soprattutto delle monografie. E questo è stato fatto dall'inizio e poi questo, diciamo, negli anni che sono stato là è sempre continuato, con fondi per lo più che venivano dalle presidenze. E in questo devo ricordare che tutti i prestiti con i quali io ho avuto a che fare, diciamo il professor Ziliotto prima, poi il professor Giovanni Abitante dopo e il professor Cavalli, hanno sempre avuto un'attenzione particolare per la biblioteca. Tra i vari direttori poi ho avuto il professor Igino Andrighetto, ho avuto il professor Cavalli, poi ho avuto il professor Maurizio Borin, poi Mario Lenzi, poi da ultimo il professor Francesco Mascarello, con il quale ho chiuso. Posso far torto qualcuno perché la memoria mi fa qualche brutto scarsa. Ma questa è la storia. Veterinaria, ecco, era un settore che aveva poche monografie all'inizio e poche soprattutto riviste. Quindi c'è stato tutto un lavoro in mane per fornire documentazione, articoli che venivano richiesti per lo più a Bologna o alle biblioteche dove c'era la disponibilità, dove c'era uno storico che non c'era nella facoltà veterinaria. E anche questo qua è stato un bel servizio che abbiamo messo su. Dopo poi c'è stato il potenziamento a livello Ateneo delle banche dati e quindi molte riviste venivano trovate, molti articoli venivano trovati nella banca dati Ateneo e quindi tutto sommato ultimamente il lavoro si era un po' facendo. Però non più di tanto per quanto riguarda sempre veterinaria. Volevo chiedere sì, effettivamente insomma il problema di veterinaria che chiaramente nasce dopo, perché anche veterinaria inizialmente aveva sede presso l'istituto della Brusegana. Lì non c'era nessuna biblioteca che poi è confluita ad Agripolis. L'ultimo patrimonio che aveva la facoltà di veterinaria erano alcune monografie che avevano acquistato con dei fondi speciali per una nuova facoltà che parte sempre, più l'uso di alcune monografie per lo più propedeutiche che venivano dal Dipartimento di Zootecnica e Produzione Animali, che era ben fornito, era ben organizzato, quindi quello ha dato una mano almeno nella fase iniziale. Poi diciamo, grazie ai fondi che noi avevamo dal CAP sulla base di certi parametri, diciamo che la biblioteca di Agraria anche in Alma Laurea è sempre stata tra le prime, anzi la prima per parecchi anni, poi ultimamente siamo un po' passati nei secondi, terzi, adesso non lo so, non è che non mi interessa più, ma diciamo che era stata premiata per questo bel servizio che era stato per questi orari di apertura continuati, per questo sempre personale disponibile con l'utente, soprattutto studenti e anche docenti, cioè riuscire a dare un servizio di qualità a un'utenza di massa che sono gli studenti e nello stesso tempo a un'utenza specializzata che sono i docenti, è una cosa abbastanza impegnativa, diciamo, su questi due piani devi essere molto attento. Diciamo, se tu hai una rispondenza da tutte le parti, chi ha il governo in generale della biblioteca, che è il direttore in carica, il consiglio delle biblioteche, ma soprattutto erano le ex presidenze che oggi non ci sono più, insomma, diciamo che questo, appunto, spirito pionieristico ha dato dei frutti, soprattutto, appunto, dico ogni tanto, andavo a batter cassa dai vari presidi, sapevo che avrei preso una certa predica, perché continuavo a chiedere, però non mi ha mai detto di no, insomma, ecco, insomma, questo è, devo dire poi tra l'altro, a livello di organizzazione generale, agraria e veterinaria avevano come banca dati per le loro ricerche il Cab Abstract, era stato acquistato, diciamo, in toto dalla Silver Platter e questa era una banca dati molto importante, poi adesso credo che, almeno già con me, non l'avevamo più rinnovata negli ultimi anni, perché avevamo fatto una specie di società con chimica per passare su un'altra banca dati. Direi che questo, nella sostanza, è un po' tutto. Le volevo chiedere, quindi, anche da questa precisa ricostruzione che lei ci ha fatto, il campus di Agripolis è stato il primo campus, quindi adottarsi di una biblioteca completa, centralizzata, come c'è in molti altri campus, anche all'estero, nel Nord America e in altri posti europei. Lei pensa che una biblioteca centralizzata potrebbe essere funzionale anche per gli altri dipartimenti dell'università? Dunque, la mia esperienza, io ho due esperienze di biblioteche centralizzate, quella che era del centro interchimico, che allora si chiamava Seminario Chimico, quando sono entrato io, che quindi riuniva tutte le monografie e le riviste in abbonamento dei quattro istituti di chimica e una biblioteca costruita nuova, in via Mazzolo 1, un fabbricato nuovo che c'è, c'è tutta la torre dei laboratori e la costruzione a parte della biblioteca. È un'esperienza, io direi, fondamentale, perché intanto c'è l'accesso continuo alla biblioteca. Tu sai che c'è un orario prolungato della biblioteca, e su questo sono d'accordissimo, non devi andare a chiedere permessi per avere una rivista o una monografia che è nella singola struttura, dove gli orari per lo più di segreteria o di biblioteca sono ridotti, e quindi è fondamentale che ci sia una struttura centralizzata. Il problema è che mettersi d'accordo cosa ci va in questa struttura centralizzata, perché se è solo monografie e riviste per la didattica, diventa una sala da studio, perché quelli che sono gli spazi che mancano sono le aule del studio. Se invece si riesce a mantenere questo equilibrio, dove ci siano sia un centro di servizio, che ci siano sia monografie che riviste che vanno usate sia da docenti che personale, diciamo per studenti, che ci siano anche altri servizi collegati, e noi facevamo un servizio appunto di richiesta di articoli per tutti, tramite il sistema NIL, quello di Bologna, e questo funziona perfettamente. Poi dopo c'era anche il sistema, diciamo noi all'inizio, perché questo servizio venisse apprezzato, avevamo instaurato un rapporto diciamo amichevole con il pubblico, cioè il bibliotecario deve rincorrere per quello che penso io l'utente, non è che deve aspettare l'utente ed eventualmente demoralizzarlo buttandogli in faccia quelli che sono i regolamenti, questo si può, questo non si può, questo non è possibile, non è l'ora, non è previsto, tutte queste cose qua. Diciamo che da questo lato qua si vuole, sì i regolamenti sono fondamentali, ci vuole anche un buon senso per applicarli, insomma, e tenere sempre comunque quella che è in primo piano l'obiettivo. Noi siamo qui per dare un servizio e quindi bisogna darlo, bisogna darlo bene, insomma, farlo bene. E su questo io credo che Agripolis come qualità, elasticità, non possa essere alla pari se non superiore a tante altre biblioteche, insomma, ecco. Lei ha vissuto nello specifico appunto l'esperienza della biblioteca di Agripolis, però inserita in un contesto nuovo, in questo nuovo campus che appunto nasce, inizia a nascere in questi primi anni 90. Qual è stata la sua impressione di lavorare in questo nuovo contesto, in questo nuovo campus? L'esperienza è stata bellissima, perché intanto se uno gli piace il suo mestiere e si trova a entrare in un sistema complesso, parliamo solo di un dipartimento del Tese, ma è un dipartimento sì, ma vari settori, estimo, economia, ecologia, sistemazione idraulico-forestale, e più che chi ha GPS adesso ne hanno aggiunte, insomma, credo che sia 10-11 settori, insomma. Agronomia è lo stesso, c'è dentro l'arbore, botanica, viticultura, entomologia, biotecnologie è lo stesso, scienze zootecniche è lo stesso, poi c'erano ben due centri di CNR, insomma, centro di contabilità agraria, poi, insomma, era veramente una struttura inimmaginabile per uno che veniva da chimica, dove c'era tutto sommato una realtà ben chiara, semplice, e si trova questo mondo per lo più proiettato verso l'esterno. Per cui, dall'altro la soddisfazione di essere, di aver molto, diciamo, brutalmente, carta bianca nel fare, nel fare per, chiaramente non fare quello che si vuole, insomma, ecco, sotto questo punto di vista, col professor Cavalli c'era sempre, non dico frazioni perché il professor Cavalli per me è un direttore perfezionista, io lavoro molto bene con i perfezionisti, però caratterialmente voglio che la macchina vada, cioè, quindi mi fermo il telaio, il motore, e la trasmissione del movimento alle ruote, mentre per avere la bella caratteria, eccetera, ci vuole uno che sia un perfezionista, che dedica il tempo giusto a fare le cose, insomma, no? Però, diciamo, intanto l'impressione è incredibile della caratura di certe personalità. L'accordo sì che Agrari appunto ha questo rapporto col territorio, dal quale ricava i mezzi per essere, per avere tanti mezzi per funzionare, quindi quando dico che andavo a batter cassa rispetto a una povera chimica che si, diciamo, consumava tutto il suo povero bilancio nell'abbonamento delle riviste poi rimaneva poco più, qui c'era molto di più, insomma, ecco. E in cambio ti chiedevano che di far funzionare le cose. Poi, appunto, questo far funzionare le cose ti sentivi molto responsabilizzato e anche se uno si sente responsabilizzato si sente anche gratificato, perché durando un direttore, un anno di media, chiaramente la continuità veniva data dal funzionamento del servizio, dal non creare conflitti all'interno tra colleghi. Questo qua, anche se costa, però, personalmente l'ho sempre vissuto come un imperativo cercare di mediare e non creare conflitti all'interno della squadra. Diciamo che sono arrivato alla fine del mio lavoro, che questo è avvenuto, insomma. Dopo c'è stato agli ultimi anni una riorganizzazione un po' diversa, voluta dal CAB, che ha suddiviso tutto il sistema biotecario di Ateneo in dieci poli, con i responsabili di poli. Diciamo che c'è stato uno stabilizzare il servizio su standard che valgono bene per tutta l'università. insomma, sì, volevo riprendere il suo discorso, dicendo che Agripolis era proprio questo, una grossa impresa, la chiamerei proprio impresa, che aveva da un lato sì la cura della didattica, della ricerca, eccetera, ma anche aveva un grosso lavoro sul territorio. Avevano rapporti con la politica, con l'economia, e questo era molto palpabile. Insomma, adesso io non entro nei dettagli, dei, non so, prestazioni, contratti che loro potessero, ma per esempio soldi, dipartimenti, la piccola entomologia, per esempio avevo tanti contratti con l'esterno, perché per l'agricoltura era vitale, insomma, la cura delle culture, e chi più ne ha più ne metta, insomma. Non parliamo del teso, perché è un mostro, diciamo, di organizzazione, anche di personale, e quindi a mezzi, penso, in abbondanza. Ma anche lo stesso agronomia, io so che avevano tantissimi contratti con l'esterno, biotecnologie, insomma, e poi questo qua è continuato, anche con la nuova riorganizzazione dell'università, questo, diciamo, ha retto benissimo, insomma. Ma anche la stessa veterinaria era messa molto bene, pur essendo una facoltà nuova, insomma, ecco. Ma com'era invece proprio il clima che si respirava, soprattutto nei primi anni, e in particolare anche il rapporto degli studenti con la biblioteca? Gli studenti in biblioteca avevano, io dico, un buon habitat, con libri a scaffale aperto, nella cura del patrimonio, per alcune, per esempio, materie, erano state pigliate anche le più copie, insomma, dico solo zootecnia, produzione animali, 20-30 copie, la flora d'Italia, 50 copie, per cui, c'era molta attenzione nei riguardi degli studenti, anche dal lato economico, quindi i presidi, da questo punto di vista, hanno fatto molto per la didattica e per gli studenti, questo bisogna dare atto, comunque, insomma. E questo, rispetto a qualsiasi altra realtà che io conosco, perché siccome sono curioso, diciamo, e conosco molto bene l'università, conosco per esempio, pigliamo medicina, medicina non si è mai curata di comprare tanti libri per gli studenti, perché diceva la medicina i libri per gli studenti li deve pigliare l'Eisu, questo è è errato, anche se il professor Fassina, diciamo, ha queste idee, anche se la consiglia una persona simpaticissima, però dico, fare una scelta di questo tipo qua vuol dire fare una scelta orientata alla docenza ma non all'utenza studente, insomma. Ed dirò di più quanto sia importante questo, quando c'è stata la certificazione della facoltà di veterinaria, è venuta la commissione CE per la certificazione e hanno fatto tutta una serie di analisi, compresa la biblioteca, cioè, è venuta la commissione biblioteca, la commissione era composta da professori e anche da studenti e hanno controllato a scaffale quello che era il patrimonio dei monografie, riviste, banche dati, eccetera. Avevano riscontrato quello che avevo detto prima per quanto riguarda la medicina una certa carenza di monografie. Quindi, per dire, l'attenzione per gli studenti, per il patrimonio di monografie e riviste per gli studenti dovrebbe essere molto curato anche perché questi sono gli standard che funzionano all'estero, insomma. Diciamo che questo qua è stato fatto almeno negli anni che sono stato io ad Agripolis, questo è stato perseguito, devo dare atti a tutti i presidi e anche le singole strutture che su questo non hanno badato spese, insomma. In generale, invece, non so, giudizio proprio sul campus? Il campus, secondo me, è un'esperienza bellissima, cioè, peccato che non sia stato, diciamo, fatta altre esperienze simili per altre realtà. Ecco, dico solo, per esempio, la realtà degli istituti scientifici, chimica, biologia, così, un campus per queste strutture qua, dal mio punto di vista, sarebbe stato l'ideale e quindi fuori dal centro urbano, ben attrezzato, c'è meno impatto ambientale, diciamo, oppure, perché vengo male qualcosa a chimica di sostanze che nocive si usa o anche biologia, eccetera, e quindi il campus è una cosa ideale. Devo dire che poi ci sono certi benefici, per esempio, io ho avuto l'esperienza che mi ha sempre silenziosamente permesso di portarmi il cagnolino, insomma, è una cosa diciamo così privata, ma insomma a me ha fatto comodo, insomma, anzi, è bello, anche c'erano gli studenti, si vedono che hanno, ma diciamo che questo è facilitato dal fatto che, bene umano, ci sono gli animali, i veterinari ci sono gli animali, quindi, se uno non crea problemi, fanno buon viso, cattivo gioco, dico io, insomma, ecco. sì, è un'esperienza oserei dire validissima, diciamo che qui si parla del professor Bonsambiante che ha avuto l'idea e ha recuperato i fondi per fare questa cosa qua ed è stato veramente lungimirante, doveva essere più ambizioso e come più ambizioso erano anche le mie idee per quanto riguarda la biblioteca, perché quando siamo arrivati nell'area, visto il patrimonio che c'era ad Agraria, visto il patrimonio che c'era in altre realtà esterne, tipo il Cerletti, Veneto Agricoltura e l'Istituto Zoo Profilattico delle Venezie, il mio sogno sarebbe stare e sono stati presi contatti, cioè dopo non sono andato in porto alle varie convenzioni e dopo ognuno poi è andato per la sua strada, ma c'era tutto il patrimonio e quindi parliamo che saremmo arrivati non so centomila monografie come a dire poco, ottocento periodici attivi, banche dati a più non posso, a creare una realtà bibliotecaria che poteva essere anche, poi era stato fatto anche questo studio poi abbandonato, in quella struttura che è l'ex cartiere al di là del Roncaiette, creare lì una super biblioteca per tutto il Veneto diciamo come idea di biblioteca di agraria, veterinaria, eccetera, era portata di mano, dico, come mezzi, come idee, insomma, dopodiché sai, qui mettere a posto tanti, ma mettere d'accordo tanti enti e tante teste non sempre ci si riesce, però diciamo il fatto stesso che ci sia riusciti a unificare il Serletti con tutto il patrimonio di agraria, eccetera, per l'università è stato buono, eccezionale per il campus, insomma, ecco. Dottor Zini, un'ultima domanda più personale se vogliamo, lei se potesse ritornare indietro ripercorrerebbe le stesse tappe, farebbe lo stesso percorso di studi? Io sono sempre stato uno che ama diciamo l'azione come a chimica la prima cosa che ho visto è il patrimonio, si cerca subito di recuperare il patrimonio che c'è in toto, cioè dalla piccola carta alla grande e dopodiché rincorrere, dico sempre io, il proprio utente, cioè non contentarsi di dire che venga, cioè ricercare l'utente, il rapporto con l'utente, avere degli utenti esterni, le faccio solo un esempio, non so se si ricorda il professor Silvio Bernardinello che faceva un corso credo di bibliografia, biblioteconomia, portava i suoi studenti ad Agripolis perché era entusiasma di come era organizzata la biblioteca. a chimica faccia conto che quando c'è stato prima direttore il professor Cesare Pecci una grande figura e poi è stato preside lui ha curato molto anche dal lato della cultura completa per gli studenti aveva creato un settore di storia e filosofia della scienza per esempio tutte le parliamo dell'opera Omnia di Geimon e quant'altro poi aveva curato la storia della chimica e soprattutto aveva trovato un bravissimo professore storico uno è Virgilio Germani e l'altro è Angelo Bassani e quindi era stato fatto la storia della facoltà di scienze uno la storia della facoltà di scienze due varie pubblicazioni di chimica si sa tutto agraria è stato fatto quel volume che ho visto che lei ha e poi era stato fatto anche quello di medicina veterinaria dal professor Cozzi e quindi questa cura e questa attenzione è importante per farti sentire vivo nella tua professione quindi non solo il servizio che deve essere sempre curatissimo e anche appunto dico sempre molto dinamico cioè deve essere accogliente l'ambiente in quale tu lavori devi renderlo accogliente insomma e dopo anche diciamo io se tornassi indietro proprio per rispondere definitivamente rifarei la stessa strada addirittura cercherei ancora diciamo sempre dove c'è qualcosa di nuovo da fare ecco non dal mordifuggi perché ho fatto 19 anni a chimica non proprio 19 18 e qualcosa dicevo sempre come Galileo i 18 anni migliori della mia vita insomma e ne ho fatti 16 e qualcosa ad Agripolis due diciamo ambienti diversi ma tutti e due stimolanti Agripolis perché uno si perde insomma e chimica perché era molto molto ben organizzata anche chimica quando hai da fare con i professori che non sono solo professori di una materia eccetera ma hanno anche altri interessi e ti vengono in biblioteca discutono volentieri stanno lì volentieri si mescolano con gli studenti e questo è molto interessante questo qua mi pare che ad Agraria stia soprattutto il professor Cavalli è stato sempre molto perseguito e curato insomma sarebbe stato interessante avere un settore e mantenere quello che di storico c'era ad Agraria che non sono solo le carti modellini ma c'erano anche tutti dei documenti tipo di entomologia agraria il fondo Alessandro Trotter che era faceva parte della biblioteca dell'orto botanico e ci sono dei libri antichi sono stati tutti catalogati per cui è tutto un patrimonio accessibile però diciamo continuare questo cura questo ordine che era tipico quasi di quasi tutti i professori che c'erano parliamo soprattutto di Ottono e Ferro Carlo Vanzetti Agostini il professor Fattorelli se lei va in quei settori vedete qua lei trova tutto con un ordine incredibile insomma e adesso purtroppo queste cose qua o ci vuole anche un bibliofilo coadiuato chiaramente da chi ha il potere diciamo no quindi che sia il direttore che sia il responsabile di polo eccetera ma che abbia anche un occhio particolare a quello che è la propria storia e lì della storia ce n'è tanto